un po' di più bravi 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 alessandro qua non mi sa che mi provi le sue alessandro guarda lui ma per dopo mi serve se è minimamente intelligente lo fa con 4 ragazzi non si ferma almeno a stringere la mano 25 ragazzini 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 e ho detto che la coin è il migliore per farol essere ha integrità ha autenticità e le persone credono le store e se credono le store spero credo credo grazie posso andare alla prossima round? ciao a tutti io gli faccio le domande in inglese non so se avete bisogno della traduzione o se andate tranquilli poi farete le domande voi comunque c'è una traduzione ma quando mi sono fuori questo è me fuori farol ho avuto non 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 l'anno 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 sono si dormono la notte si Sì!